Il passato torna a Kabul. Le milizie di quelli che erano chiamati insurgents si insediano nei gangli urbani, ma intanto il caos generale moltiplica le ferite. In tanti corrono al pronto soccorso di emergency. Abbiamo raggiunto la dottoressa Gina Portella, coordinatrice di emergency a Kabul. Le abbiamo chiesto quanto si è preoccupata per la sua incolumità. Penso che sarebbe superficiale rispondere che in una situazione diciamo così delicata come questa, uno non teme per nulla della propria incolumità, però è vent'anni che lavoriamo qui in Afghanistan. Il paese purtroppo non è mai uscito direi da una situazione in cui vediamo pericoli e contrasti, per cui insomma siamo tranquilli per quanto si può esserlo in queste condizioni. Il protocollo vi impone praticamente di non uscire, cioè voi vivete in ospedale? No, noi abbiamo anche una a casa, ovviamente passiamo molta parte del nostro tempo in ospedale, ma proprio per necessità lavorative e poi siamo a casa. Di sicuro diciamo che in generale non siamo mai andati troppo in giro. Avete avuto rassicurazioni sul fatto di poter continuare a operare in tranquillità? Noi abbiamo sempre avuto un dialogo aperto con tutte le parti in causa, perché normalmente noi curiamo i feriti senza chiedere a quale fazioni appartengano, qual è la loro idea politica o religiosa e via dicendo. Chi sono le persone che in questo momento hanno bussato al vostro pronto soccorso? Quello che riceviamo sono soprattutto feriti da pallottola da scheggia. Quindi non soltanto all'aeroporto, ma anche in altri quartieri ci sono degli scontri? Guardi, no, molto ridotti le direi assolutamente nelle ultime 48 ore. Abbiamo attraversato la città ieri perché ci stavamo spostando tra i nostri ospedali e le devo dire non c'è stato segno di guerriglia attiva o situazioni di questo genere. Il caos si è creato soprattutto, le direi, il 15 agosto, insomma i momenti più tesi sono stati quelli. Avete avuto un contatto ufficiale con le nuove autorità locali? Il ministro della Sanità, che è tuttora il ministro che c'era col governo precedente, ci ha contattato perché già ci conosce, ovviamente lavoriamo in questo paese da più di 20 anni, e ci ha detto che ci verrà a trovare, che spesso viene quando ci sono queste situazioni in cui ci sono tanti feriti, per capire qual è la condizione e così via. Trovandomi in queste situazioni, credo che ci sia un'evidente dimostrazione che un approccio violento a risolvere problemi all'interno di un paese porta a nessuna soluzione se non agli inasprimenti. Quindi insomma è un approccio che va cambiato, la guerra non funziona. Auguri di cuore da tutti noi di Euronews. Grazie, grazie a lei. Grazie. Buonasera. Grazie a tutti.